All'inizio della part 8 non era che un piccolo evento introduttivo del Fest Festival, l'anno dopo eravamo in 700, l'anno ancora dopo eravamo in 1000, c'è stato un anno in cui ci siamo guardati dal ponte di via Matteotti, abbiamo visto tutta via indipendenza completamente piena e lì avevamo capito che qualche cosa era cambiato. Questa danza tra idee diverse sono parte di uno stesso grande quadro affrescato ed era un'opera d'arte che era assolutamente fatta da gente comune. Spazi in questa società in realtà in cui mischiarsi ce ne sono ben pochi, la part 8 invece ha sviluppato questo, dalla vecchietta di Bologna al ragazzo universitario al papà quarantenne riescono ad essere racchiusi dentro uno stesso contenitore. La vera forza è questo, avere uno spazio da condividere con persone con cui normalmente non condividi gli spazi. Grazie. Grazie. Grazie.